Nuovi terreni per l'agricoltura in località Piagaro a Borgo Valsugana. Il bando pubblico sarà indetto nei prossimi mesi per dare in gestione due ettari di terreno in località Piagaro a Borgo Valsugana. Sono stati recuperati ad area agricola dai servizi bacini montani della provincia, lavori realizzati nel corso del 2019. Provincia che successivamente ha chiesto al comune di occuparsi della gestione e della manutenzione dell'area. Sindaco e Giunta, in accordo con il Consiglio Comunale, hanno deciso di seguire la strada del bando per affidarne la gestione per i prossimi sei anni. Destinatarie, aziende o attività agricola della zona della Valsugana, quindi, che potranno usufruire dell'area per svolgere attività di Pascolo e di zootecnia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.